Una soddisfazione il progetto Noi si fa teatro e non solo teatro, la scuola in scena presentato oggi in conferenza stampa. Le attività programmate per la tredicesima edizione vogliono contribuire a promuovere lo sviluppo di una cultura della cittadinanza e della convivenza civile attraverso il fare, vedere e parlare di teatro, proponendo crescere insieme tra egoismi e solidarietà come tema Guida della manifestazione, i ragazzi delle scuole, gli ovvi protagonisti. Il calendario si è avviato a novembre con la produzione dello spettacolo e il tempo vola, proseguirà nel mese di marzo con Sperimentando tra classe e teatro e ancora il 27 marzo 2012 si celebrerà la giornata mondiale del teatro. Le attività si concluderanno nella settimana dall'8 al 12 maggio con la tredicesima rassegna il teatro della scuola, città di Lanciano, la scuola in scena, rassegna teatrale delle scuole del territorio e delle scuole ospiti provenienti anche da altre regioni. Sindaco Mario Pupillo immagino che questo è un progetto che la coinvolga particolarmente ed emotivamente soprattutto. Beh, essendo un grande appassionato di teatro sicuramente sì, poi quando il teatro si sposa con l'educazione, la formazione, gli aspetti sociali soprattutto investendo i giovani il teatro compie diciamo questo grande miracolo di dare a tutti la possibilità di crescere, di fare esperienza, di confrontarsi, di migliorarsi e quindi di far crescere la nostra comunità soprattutto per quanto riguarda i ragazzi che affrontano il futuro più preparati perché il teatro veramente è una grande scuola di vita. Presidente Satiracchia, un programma ricco, articolato, rivolto ai giovani. Sì, in realtà il nostro progetto è sempre molto condito di attività ma quest'anno particolarmente abbiamo iniziato già nel mese di novembre a produrre uno spettacolo che è inserito fra gli eventi della stagione teatrale, Il Tempo Vola. E' quindi quasi un premio per i nostri ragazzi che si occupano di teatro ed educazione e che realizzano non soltanto la rappresentazione ma scrivono il testo lavorando su tematiche che sono a loro molto vicine.